Doveva essere la solita, tranquilla, passeggiata mattutina il percorso abituale lungo l'argine del Bacchiglione tra Stacco Longo e Selvazzano, ma sabato durante il tragitto il cagnolino corre in mezzo alle serpaglie e da quel momento inizia il suo calvario a raccontare cosa è accaduto al piccolo Leo, la sua padrona Alessandra. Il cagnolino infatti è deceduto poche ore dopo e il sospetto è che sia stato avvelenato. Dopo un quarto d'ora che era a casa, 20 minuti diciamo di tragitto dal luogo dove è avvenuto questa corsa e l'abitazione, il cane comincia con tremori e convulsioni abbastanza evidenti e aveva anche le gambe che sembravano un po' scordinate. Sul certificato di decesso si legge chiaramente il sospetto avvelenamento, la scampagnata tra le erbacce è stata fatale, il cagnolino è peggiorato in pochi minuti anche sotto gli occhi del veterinario che lo stava curando. Adesso come procedura, da quello che ho capito, sia i resti del cane che i referti di laboratorio e i campioni che sono stati ritrovati da lui e poi a casa nel giardino da noi, viene tutto inviato all'Istituto Zooproflatico delle Venezie per i controlli di rito e per accertare anche se è stato un vero avvelenamento, di che tipo, da quello che so, verranno anche attivati con questa procedura anche le forze dell'ordine. Cosa abbia provocato l'avvelenamento? Lo stabiliranno gli accertamenti dell'Istituto Zooproflatico di Legnaro. Purtroppo però il caso del piccolo Leo non è il solo in quella zona. Ieri sera siamo stati avvisati che un cane che aveva fatto il nostro stesso tragitto si era sentito male e purtroppo questo cagnolino non è neanche riuscito ad arrivare dal veterinario vivo. La zona è sempre la stessa, così Alessandra ha deciso di appendere un cartello per avvisare i proprietari che portano i cani a passeggio in quel tratto di argine, di bacchiglione, lanciando anche un appello rilanciato attraverso i nostri microfoni, le chat e whatsapp dei vari gruppi. Grazie al Tam Tam una donna è riuscita a fermare in tempo il suo cagnolino prima che si avventurasse tra le sterpaglie nel punto in cui il povero Leo è stato avvelenato.